Arriverà mercoledì mattina l'ultima chiamata per evitare un nuovo sciopero ad Amazon. È infatti slittato di un giorno, a mercoledì 20 dicembre, l'incontro in prefettura tra la dirigenza del Colosso e i rappresentanti dei lavoratori del sito di Castel San Giovanni, ultimo tentativo di conciliazione tra le parti, alle prese con un'avvertenza molto dura sulle condizioni contrattuali e di lavoro all'interno proprio del grande magazzino piacentino. Innanzitutto ringraziamo il prefetto di Piacenza Maurizio Falco per il lavoro che sta facendo in questa avvertenza. Scrivono in una nota le segreterie territoriali di Filcamps CGL, Fisaskat CISL, Wiltux e UGL Terziario e abbiamo accettato con senso di responsabilità la richiesta di spostamento dell'incontro arrivata proprio dalla prefettura. Abbiamo chiesto che il confronto si svolga nella primissima mattina per permetterci di riferire ai lavoratori gli esiti di questo tavolo istituzionale nelle assemblee che erano già state programmate. I sindacati auspicano quei passi in avanti che fino ad ora non è stato possibile compiere per la chiusura totale da parte dell'azienda. In caso contrario, concludono, non escludiamo nessuna forma di lotta.